Hai una mascherina? Prima la domanda, poi l'aggressione a scopo di rapina. Sono già 5 le denunce raccolte dalla Polizia di Stato per altrettante aggressioni a minorenni da parte di un gruppo di giovanissimi. Si muovono in un gruppetto, in questo caso, di 6-7 persone, quindi massimo 10. Individuano la vittima, la cerchiano e facendo leva sulla sproporzione numerica e anche sul fatto che sono magari più grandi, mettono in atto poi queste condotte di aggressione. I ragazzi vittime di questi episodi che sono avvenuti nella zona del parcheggio Pietri ad Arezzo durante l'ultimo fine settimana, hanno tutti dai 14 ai 16 anni in alcuni casi. Ci sono state anche lesioni. Si, si sono verificati al momento, ne abbiamo registrati 5 episodi, delle aggressioni a scopo di rapina, con richieste di denaro o di sigaretta o comunque di oggetti di poco valore, con modalità molto simili tra di loro. Il ragazzo, la vittima, magari si isola dal suo gruppo di amici, viene quindi avvicinato da questo gruppo di 6-7 ragazzi un po' più grandi di lui e avviene poi l'aggressione o tentata rapina. In questo caso, proprio nei fatti che voi avete rilevato come denunce, c'è stata proprio la rapina? In alcuni casi è riuscita, con pochi euro che il ragazzo aveva con sé, in altri invece è solamente tentata perché magari è riuscito a svigolarsi la vittima o comunque non aveva del denaro con sé, quindi in alcuni casi è consumata e in altri casi no. Gli inquirenti indagano per capire se i fatti possono essere attribuiti ad una baby gang che alcune settimane fa aveva seminato il panico tra i giovani di Arezzo con episodi simili. In quel caso ci fu poi l'arresto di un 19enne. Sì, perché le modalità con cui sono avvenuti questi episodi ci rimandano agli episodi e alle vicende di quest'estate e quindi stiamo cercando dei collegamenti tramite testimoni, tramite l'acquisizione di immagini di videosurveglianza e cercare di individuare i responsabili. C'è tanta preoccupazione soprattutto tra i genitori, in questo caso ci sono state anche delle lesioni? Lesioni per fortuna lievi, però naturalmente questo non toglie nulla alla gravità del fatto, alla preoccupazione dei genitori. Quello che mi sento di dire è che comunque questi episodi vanno denunciati alla polizia, comunque alle forze dell'ordine e non va assolutamente lasciato nulla. Non bisogna quindi avere timore di denunciare questi episodi perché comunque noi ci stiamo lavorando e quindi per individuare i responsabili. Ecco, mi sembra di capire che classificarli come ragazzate non va bene. No, perché non mi sembra, perché comunque si parla proprio di fatti di reato anche abbastanza gravi, perché comunque la rapina è un reato anche punito in maniera molto severa. Quindi ragazzate non penso, anzi penso anche che sono condotte molto gravi dal punto di vista penale e anche dal punto di vista morale. Grazie.